No, ma parliamo di un altro problema, così non parliamo dell'Arabia Saudita, perché Carlo sa che... No, no, ma la mia è ovviamente una... Cioè, però Anderson le ha fatte tutte. Cioè, si è esposto, poi è andato lì, adesso pure va all'Ajax, torno indietro. Ma non mi sembrano scelti lungimiranti, dicendo che non si trova bene con il clima. Ma che roba è? Scusami. Quello che è veramente incomprensibile bisognerà chiedergli e qualcuno prima o poi lo farà, chissà se mai darà una risposta, è ma tu cosa ti aspettavi di trovare andando lì? Cioè, perché stai andando via dicendo che non ti sei trovato bene? Che aspettative avevi? In che modo può essere diverso da quello che hai trovato? È questo che a me non convince molto. Cosa si aspettava? Di trovare cosa? No, ma è palesemente un errore, si giustifica in un certo modo. Però, ovviamente di Anderson ci interessa il giusto, ma è quello di Benzema, il nome forte, a proposito di Lione. Cioè, l'idea che il giocatore più pagato della Lega se ne vada. Cioè, addirittura oggi ho sentito una clamorosa cosa del Chelsea, non so se sia vera, però mica male come situazione per il Chelsea. Sarebbe bellissimo. E però, come ne esce? Il campionato arabo ne esce completamente ridicolizzata, è come una cosa non credibile e non solo. Perderanno anche tanto a livello di investimenti, per tutto quello che hanno fatto. La notizia positiva è che non contando i soldi, non avendo di questi problemi, anche qualora perdessero investimenti... Ma c'è anche la roba dei tifosi che, con tutti questi soldi, aspettano tanto dei giocatori. E quindi uno che non riesce a incidere con gol, assist, performance di alto livello, viene criticato. E quelli che pensavano di andare in Arabia Saudita tranquilli, come delle star, delle star, perché lì non ci sono una cultura delle star internazionali forte, adesso vedono critiche, fischi, social impazziti dopo due partite perse e quindi fanno fattica perché scoprono che magari l'Arabia Saudita è anche più difficile dell'Europa su questo tema. No, però Jon è vero, sicuramente è un fattore, però a me sembra strano che, cioè, Benzema, quanti l'hanno criticato? Cioè, sarà meglio di noi, no? Cioè, dal Presidente della Repubblica in giù, Presidente della Federazione in giù. Cioè, io non credo che, con tutto rispetto, adesso quattro ultras della Litiad fanno cambiare idea a Benzema. Cioè, mi sembra che ci sia qualcosa di più profondo. Non lo so, eh? Cioè, la vittoria... Ha cambiato direttore sportivo, allenatore, da quando lui è lì. Però, cioè, sono cose che possono capitare, quelle... Cioè, per questo se ne va, perché dice non c'è profondo... Non lo so, mi sembra... Secondo me è ancora più profondo, Carlo. Penso che ci sia qualcosa proprio nella progettualità in sé di tutto il concetto di campionato arabo, di Lega, di come sono organizzati, di quello che magari è anche richiesto che facciano, da un punto di vista di... So che quella parola non ci piace molto, quindi non la usiamo, ma da un punto di vista di riabilitazione dell'immagine, se vuoi, della responsabilità, tutti questi impegni extracalcistici o anche legati al campo. Penso che la situazione sia, non drammaticamente, ma molto diversa nella quotidianità e nelle aspettative che ci sono sui giocatori per questioni non di campo. E penso che tutti quei milioni, chiaramente, cominciano a non valere la pena. Magari, soprattutto se è un giocatore che ha altre opzioni, le ha. Sì, però, voglio dire, Benzema come Anderson, cioè, sa dove va. Ma sì, lo sapevano tutto questo. Per quello ti dico, secondo me no. Però, eh, non lo so, magari hai ragione a te, però mi sembra strano che improvvisamente ci sia questa cosa che riguardi Benzema. Cioè, perché sai, uno, quando hanno cacciato i gasi dalla Litiad non se ne è accorto nessuno, non gliene frega niente nessuno, ma Benzema così, cioè, non è che io dico lo ha avuto lì tra i tanti fattori, potrebbe anche esserci la scoperta, non tanto delle... Io sulle critiche, magari ha ragione io, ma faccio fatica, perché, come dire, le critiche l'hanno fischiato per sei anni di seguito all'Aran Madrid, Benzema, cioè, non capendolo. Quindi... Ma non aveva lo stesso status anche a quell'epoca? Essere fischiato a 22 anni quando arrivi al Real Madrid non è lo stesso che essere fischiato da palone d'oro, come sentimento profondo nel giocatore. Cioè, tu dici, questi qua non capiscono niente di calcio, vengono qui a rompermi... Cioè, pure... Magari. Non lo so, non lo so. No, no, io sto buttando lì perché io ho visto le rare partite che ho viste. Ne ho viste un paio, inizialmente, anche una con Benzema, ma ne ho viste anche una con Broso. Cioè, io noto che c'è un po' di insofferenza di alcuni giocatori al fatto che i giocatori locali non riescono a capire certe giocate. Siccome, per dire, a Cristiano non interessa nulla se uno non chiude l'1 o 2, tanto lui deve segnare. Poi, se quello sbaglia, a chi se ne frega, esulta come se fosse anche sul 6-1 in un campionato così. Ma altre non sono così. Dopo un po' uno si scoccia. Cioè, è un livello basso. Cioè, è un livello da partita del giovedì. E magari i giocatori del genere non si divertono nemmeno più. Pensavano di trovare qualcosa di meglio. Cioè, la voglio pensare bene. Poi magari ti dico, è una grande panzana anche la mia. Però mi sembra strano che un po' di critiche, anche pesanti, che poi, voglio dire, adesso non so, è vero che è un musulmano praticante, almeno così dice, ma penso che abbia tutta questa grandissima conoscenza dell'arabo adesso a Benzema. Quindi non è che capirà tutto esattamente, no? O altre situazioni, quello, diciamo, dell'affare extracalcistico. Mi sembra che, e questo, se dovesse essere così, non lo so, ma sarebbe la più grande sconfitta. Cioè, praticamente, siete ancora troppo indietro. Io me ne vado. Cioè, tanto per riassumere la cosa, no? Poi, qui, ci lascio quelli che vogliono divertirsi a segnare in gol, come se io vado al parco di trenno e gioco con i bambini di 12 anni, segno un gol a raffica, Aldo Giovanni e Giacomo, no? Poi esulto, mi esulto in faccia. Cioè, non lo so. Però mi genera questo tipo di domanda, perché, l'abbiamo sempre detto, il sistema, a cui è la fiera del calcio, il sistema della Saudi Pro League, cioè, con il discorso della ricerca di un certo altro modo di fare calcio, la possibilità di avere dei soldi, quasi delle risorse infinite, cioè, tutto giusto. Però, quello che non sapevamo è, quello che sappiamo è che l'investimento è clamoroso, quello che non sappiamo è, ed ho parlato con alcuni dei tanti lavori, la reazione dei calciatori. Cioè, i calciatori, come reagiscono a un campionato così? Alcuni sì, alcuni... Secondo me, se la reazione di Benzema è questa, poi, io non sono neanche così persuaso dal fatto che la litiare, dicono, vabbè, allora non ti trovi bene, arrivederci, c'è, non penso che si accontenteranno di questo, no? Decisamente no. Magari poi voi dal Chelsea lo prendi da tre giocatori, però è proprio una caduta d'immagine, e questo secondo me non so fino a che punto se lo possono permettere, in questo momento storico, dove stanno costruendo, così, una immagine di un certo tipo. Ecco perché non penso che Benzema può lasciare a metà stagione. Tra l'altro. Mi sembra difficile. Ma io avevo addirittura parlato con alcuni che, diciamo, hanno rapporti con Calciatori Lì, mi ha detto che addirittura non potevano neanche lasciare dopo il secondo anno. Cioè, nei contratti ci sono dei vincoli super stringenti. Due anni. Però mi pare di capire che non siano vincoli di contratto, sono vincoli di contratto a quelle condizioni. Quindi se tu vuoi questo contratto, questa è la condizione. Minimo due anni per tutti i combattimenti di tasse, queste menate qua. Non penso che loro non possano uscire, ma che debbano sicuramente lasciare circa, abbiamo fatto i calcoli, quasi due terzi di quello che hanno guadagnato tra tassa all'Arabia e a paesi d'origine. E poi sicuramente ci sarà qualche penalti. Tommy, sarebbe ancora peggio? Cioè, Benzema dice, guarda, tenete pure i vostri soldi, ma io in questo qua, in questo campionato non gioco più, siete troppo scarsi. Certo. Cioè, rinuncio anche i soldi, però basta. Cioè, sarebbe veramente una roba come dire, no, ma per quello che non c'è. Non c'è un'osservazione. No, ci sta, ci sta.